Benvenuto o benvenuta in questa meditazione dove andiamo a lavorare sulla consapevolezza del cuore. Lavorare sul cuore è un aspetto molto importante che ci permette di armonizzare l'intero nostro sistema. Non a caso il chakra del cuore è situato al centro rispetto agli altri chakra. Un perfetto ponte di comunicazione tra i due mondi nei quali viviamo sia materialmente che spiritualmente. Bene iniziamo. Trova un posto tranquillo dove poter praticare la meditazione. Sistemati quindi in una posizione per te comoda. Ora che ti sei accomodato chiudi con delicatezza gli occhi e prenditi tutto il tempo per fare un lungo respiro profondo respirando dal naso e mentre espiri dalla bocca lascia andare tutti gli impegni, le programmazioni per dedicarti solamente a te e a questo momento. Comincia ora a rilassare lentamente il corpo attraverso il lento e calmo respiro. Lascia che attraverso il tuo respiro calmo, ritmico e naturale la tua mente diventi stabile e tranquilla. Piano piano mantenendo la concentrazione sul tuo respiro, tutte le distrazioni, le programmazioni, il chiacchiericcio della mente si sciolgono in rivoli d'acqua limpida e cristallina scorrendo. Respira e rilassa. Concentrati ora sulla parte bassa del tuo corpo, le gambe, i piedi, questa zona che rappresenta il radicamento, la connessione con la terra, le radici da cui attingi. visualizza o percepisci ora il colore rosso arrivare al tuo corpo, attraverso delle radici provenienti dalla terra. Un colore e un calore che inonda tutto il corpo. e durante il passaggio la sua energia ti anima e ti invita alla presenza. una fluente cascata di colore scivola sul tuo corpo e questo ti permette di aprirti alla sua forma. trasmettendoti la consapevolezza che l'esistenza ti nutre e ti sostiene sempre. ora lentamente sposta la tua immaginazione visualizzando delle rose dai petali color rosa. un grande giardino di rose completamente sbocciate dai petali profumati. immagina di essere avvolto da questi petali che volano al ritmo dell'aria formando una danza attorno al tuo corpo. l'amore del rosso ha una notta maschile di amore. forza, determinazione e volontà. l'amore del rosa è femminile, inclusivo e accogliente. poco sopra il petto una rosa sboccia espandendo il suo profumo e il colore rosa intenso. ripeti mentalmente la frase percepisco la sacralità del cuore il mio nucleo d'amore. proietta te stesso visualizza il tuo corpo come se tu potessi vederlo dall'esterno nella posizione in cui ti trovi in questo momento rilassato mentre un cerchio luminoso e dorato avvolge e riscalda il tuo corpo e il cerchio di guarigione. osserva qualche istante questa bellissima immagine del tuo corpo avvolto dalla luce di questo cerchio. noti anche che il colore rosso scorre dentro di te donandoti vitalità e mentre attraversa il tuo corpo senti un senso di liberazione. caldo, intenso, forte, rosso caldo, intenso, forte, rosso la sua potenza rimuove tutti gli ostacoli e libera l'energia compressa la tua proiezione nel cerchio di guarigione è investita dalla vibrazione del colore rosso che ti fa apparire tutto più solido. la cascata di petali rosa soffici, delicati e profumati ti fa percepire allo stesso tempo tutto più morbido e leggero scopri di poter essere questo e quello scopri di possedere la solidità necessaria la senti proprio scorrerti dentro come forza, come potere ma al tempo stesso senti e percepisci la leggerezza e la tenerezza nel tuo cuore ripeti ancora ripeti ancora ripetendo entro in comunione con il nucleo del mio cuore e percepisci ciò che ti unisce alla vita ciò che ti piace di questa vita la forza del rosso e la tenerezza del rosa ora sposta ancora la tua attenzione al centro del petto che si espande e si rilassa al ritmo del tuo respiro concentrati proprio al centro del tuo petto senti di poter respirare da quel punto senti di poter respirare da quel punto rimani in silenzio per qualche istante e fai emergere le tue impressioni senti di poter respirare da quel punto 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 Compi qualche movimento con il tuo corpo, quello che ti fa sentire a tuo agio in questo momento. Quando ti senti pronto o pronta, apri gli occhi lentamente e con consapevolezza, rimanendo in osservazione per qualche istante dello spazio attorno a te. Nota che la consapevolezza della meditazione esiste ancora in te ed attorno a te, la senti nello spazio etterne alla stanza, solidità e delicatezza. La forza del tuo cuore Bene, ora la meditazione è ultimata, ma tu puoi rimanere rilassato tutto il tempo che desideri. Namaste Grazie a tutti